non me ne metti ai miei coraggio insomma mi viene da una mano ma ma ti guarda qua che cazzo è fatto ah ecco ma ti ho sconfitto questa missione chiuso qua come ci mando via ora come no sono dei sezze sono della dina io si so la dina io si so la dina sezze o la dina sezze sta vicino a la dina più o meno quanto 10 km 5 quanta non è vero si non è vero non è vero che cosa che cosa è vero è vero sezze sezze fatti ma come scelta sezze sezze punti scambi non so che so hip hop fontana hip hop che so pop 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 che so no 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 non è vero messo di bocca l'idea basta il rapporto eccolo trovo uno non è vero non è vero non è vero lo è tal tal ma non posso nascere nel salio ciao giù come si scende qua marco da me una mano ancora tu lo fa prima la missione mia ciao no vabbè no vabbè il vi via 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 ma come vado in atti bottino no non so dire come vengo però ma no ma come vieni a piedi ancora partire no mi vedo stavamo ragazzi sicuramente è meglio vedere la razza che tu sai che vale se lo vedo ooooh ragazzi ma non lo vediamo 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 è sì c'è una mica gioco oia ma non lo vediamo facciamo come c'è un nome marco camilla si chiama marco camilla si chiama marco camilla marco camilla basta dopo questo vai a piedi ma che vuoi dire scusa ho un accampamento qua questa se vuoi scusa la 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 , l'ieclario l'arco 2 lo soffertano numeri radeggi investigating vinto ma è una femmina barra era attaccato ora l'attaccato sedendo ricchiò io se bimbo vabbè finiamo dopo eh no e a che ora ti spinghi? che parli zittati vabbè io ti spinghi ma che c'è per comune che c'è da riusso e no finalmente un uomo e maria potevo rimanere fino a otto e mezzo per ciò che oh ma perchè non segui ora la contro di guarda ora ora quanto segui che palle ma che vedo perché lo segui adesso non vado a quello a quella da andare su instagram anche poi si è vero vabbè vabbè è la fine del mondo aspetta vuol dire che gli scrivo una cosa da andare aspetta 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 di aurora va su instagram ora vai su Instagram ora vai su Instagram ora vai su Instagram eh eh ahahah ahahahah 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 che hai hai uiiiiiii ragazzi ahahahah 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 ora vanno a te lo faccio domani eh questo è domani eh domani ma ti è che io devi devi come vuoi me sono la città ma se la città mi ha riperato molto raga molto raga perchè hai marco perchè hai abbandonato ma questo storia ma c'è il suo lavoro ma c'è il nostro primo un'altra contatto contatto non 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 apposta apposto apposto zingaro questo è stato spesso ho scritto io ho scritto grande donna cura ciò che ho scritto amore 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 vittigreativa amore 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 diamantiede a una sorta ho n amore amazon amore amore un amore al amore un anno amore 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 me amore per la sua chiamassona mattina attivano a quello che ho avuto io ho avuto allora capo la sua zappa il cambiato maria rissi nata l'altro mi ha dato ma no, non l'ho conosciuta qui ancora ma sta a far serio ma parla parla fontana parla questa dubbio ma tanto le gare non mi dici che faccio sto lino ma voraccia voraccia ma io mi metto 208 chiaro ci quindi per sicuro più di camilli chiaro... c... si quando fai camilli da me da me da me 30 30 30 30 30 30 uno eliminato un po' un po' un po' m'ho fatto l'amico si la stella 5 ma non è stato un po' un da dire che ci mori no vabbè vito che palle o una bella partita 3 kg è un bello start